ho fatto un video l'anno scorso io lavoro nel cinema io sono un attore nato cinema Roma e come ti chiami? io sono Enzo Enzo non Ferrari metti su come Ferrari va bene sono Andrea di Austria lei ha fatto un film? si la penna per scrivere vuoi fare il film dentro? si si vuoi venire a vedere? via questa è la mia cazzo questo è Zampa Mirli Morro Zampa Zampo 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 io sono un artista io sono nato artisti sono nato artista pitturino si si faccio un pò di tutto mi piace fare un po' di tutto ecco questo è Zampo la cosa che lui è stato investito da una macchina auto ha un'altra macchina ha un'altra macchina ha un'altra macchina via 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 Hegel, Negel, Keinnegel Keinnegel Keinnegel, Keinnegel, eh? ci ciò ho fatto il dottore e adesso va bene, mangia sempre, bello grande, grande allora mi fai vedere su YouTube dopo no? Si, si me lo scrivi? si, si tu hai qualcosa per scrivere, io ho scritto certo che adesso mi ricordo grazie questo io voglio fare la cassa degli artisti mio nonno è bellissimo e brevi tutti vengono anni una volta i vecchi i vecchi facevano il bracere si mettevano lì al caldo e mettevano il fuoco con quello lì questo si chiama braceri è capito mezzo con questo facevano il pane la farina farina molto vecchia si si capito capito i vecchi facevano la farina e poi facevano il pane e un po sono rimasto un po antiquato va bene va bene vieni un attimo grazie no 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 hanno fatto i gattini miau miau piccoli vieni non problemi vieni aspetti che accende la voce via no 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 vuoi venire ma se fai il film qua posso venire e basta da mica mica lui vieni grazie bellissimo una 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 stanza particolare ho fatto tutto io da solo ho lavorato tutto io da solo qua ho messo tutta luce acqua tutto solo ma tu fai solo il principale non tutto quello principale io ho avuto un film di te beccherei beccherei un danno si 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 l'anno scorso si e poi l'ho visto sono stato con la donna in qualche beccheria si bravo si 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 allo ho avuto fai yes internationali ciao this is the best this is the best this is the best spedici doizce Germany Austria si si Austria is spreche in canceveniki doizchi aviš kaini is abe is kane doizchi abe ma si ne me si ne ne pizza aranjero da vi tu non ho avuto e l'ho v preda a l'hazzo come stimo bere buongiorno 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 bene 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 la l'ho vesto bene al ok bene 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 che bene 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 sono un attore fallito l'Obsterecce, ciao sono fortunato che l'ho trovato ma io non ti riconoscevo, dopo hai preso un po' di pille hai preso qualche chiletto tu, prima eri più magro no, no, troppo, pancia troppo se vuoi facciamo un bel caffè, guarda qui, Ciccio Bello vuole sempre mangiare ho fatto il brodo di pollo il brodino di pollo per il gatto o per lui? no, per me, lui mangiare pure molto, ha mangiato metà lui ma questo è Bello, lui è storiano, molto e adesso ti faccio vedere un altro spettacolo guarda, scusate, mi fanno i bimbi dentro sono fortunato guarda che c'è qui, guarda lì guarda ah, gna, gna, i miei bimbi i miei bimbi ma spettacolo, eh eh, spettacolo questi sono il papà, mamà, questi loro sono le famiglie ma cazio famiglia si, fioffa mio, spostati hanno gli occhi blu zamba, dagli un bacino, bacialo tu, bacio, lavola, lavola qui, qui, papà, papà questo è come la mamma e questo è come il papà hai visto? io amo la natura, capito? carina eh, mi hanno fatto? bimbi qua dentro ho fatto capito? si si in casa, lui pulisce lui, lui è bravo aspetta che ti faccio un bacio di mancello ho un grande registro, registro da Hollywood ah, si, si, si ma, devo perché la luce ah, si, la luce, la luce, questo qua scrivono, sono in contatto scusa, ancora perché ah, vicino così? si un primo piano, no, che sono bruttissimi io ho fatto anche il cantante singhia, singhia singhia, ho fatto Sanremo lo Svizzero, Germania, Ostria primo posto, primo posto vedi, adesso ero giovane adesso vecchio, 60 anni 60 60? eh, 60, però 60 non non è molto eh non è vecchio però si sente adesso sopra sopra c'è un problema della toaletta bassa si quando si può riparirlo 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 capito si è difficile perché l'acqua si devi riparirlo non posso riparirlo se sono due o tre anni ho problemi con Oss come si chiama? Oss 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 ma questo non è bello, è uno spettacolo, lui e la famiglia insieme vieni qua, un decennale, il sesto è un blau auge abbraccio, abbraccio andiamo bimbi, facciamo un bel film e questo è il stesso papi, e questo è il stesso mamma e questo è il stesso mamma, ecco così e il Zampa è un Zampa ecco così, spettacolo questo è davvero un spettacolo vero allora lui si chiama Zampa Zampa è un Fuss Fuss o Fidelovano un Fuss che bello eccoci qua sopra la zampa mia sopra te ecco così così la zampa mia fa il polvo vado 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 guarda io amo gli animali colleghi non mi rimane in aula 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 e va papà vai vai il film adesso questo è papà la mamma lo zio e la mamma questo è la mamma vai la mamma è un spettacolo schnell schnell ahhhh il Fe aiuto aiuto Ah, mi piace, va bene, va bene, va bene, mamma mia, grazie, grazie, questa è la mamma, questa è la mamma, questa è la mamma, questa è la mamma, no Mary mia che mi fai male, Mary mia qua, guarda papà, guarda che bella la mamma, la mamma, la mamma, Mary, amiam, è mangiata Mary mia, adesso nascondere i bimbi, adesso lei, prendere questi, portarli dietro, capito, nasconde, vai con i bimbi, tu, via, questi bellissimi gli occhi sono belli, guarda che occhi, da Sissanaobe, io faccio questo, ah, di qua, è bella il mio, è il mio, amiamo, 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 sono neanche un mese, neanche un mese, no, neanche un mese, non ho, tre settimane, nascosto dentro lì nascosto dopo portare portare qua e la portare qua da me dire tu non è messa tu lo che bella mangiare e il balcone si guarda che hai visto questa calabra non che sono brutto io questo vestito è un po' in calabria una tarantella hai visto che è bella vista la visualità tutto lì la sera si vede hai visto le olie questo invece è la mezzia si la mezzia terna tutto dov'è auffen l'aeroporto l'aeroporto è lì si adesso veniamo nella televisione allora si è famosa a me piace fare il film io sono fortunato di incontrare me subito allora ma ti faccio vedere un altro film che ho fatto Bonelli anche un attore siciliano molto famoso io suonare anche un po' chitarra questo è un altro film solo che si vede solo le immagini vedi eh mannaggia guarda questo qua sono io il castello si abbiamo fatto monaco 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 si e si chiama una storia molto vecchia secolare c'era un tesoro questo questo monaco hanno rubato questo tesoro e cercavano il tesoro è una storia vera una 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 storia vera hanno fatto questo fiction e questa fiction è finita adesso ora ti faccio vedere dove c'è pure il filmato completo a questo questi sono amici miei attori questo qua no questo è famoso adesso non so come funzionare questo non so come fare questo angelo no non lo so io 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 non è Svizzernand, questo è conosciuto, famoso questo, questo è molto piccante, sì, aspetta, non mi ricordo, c'è il nome scritto qui, io senza occhiale non vedo, poi ti mando io, mi mandi tutto a me, va bene, e lo vedo poi. Vedi, vedi la mamma, l'ate, a miei ammi, no, attraverso l'introduzione di un'immunità minima europea e la cassazione delle pietre, a miei ammi, le 12 ci sono, le 8, non bagliate, bravo, eh. A beneficio dell'interesse nazionale e delle istituzioni. Svizzernand, basta, svizzernand, 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 svizzernand. E' una bambina di canabria, ha bello profumo. Grazie mille, sei un uomo molto simpatico. Io mi piace fare l'attore, mi piace lavorare nel cinema, fare l'attore della vita mia. Ok, va bene. La mia vita è un film. Ciao, ciao, prosi. Cin cin, grazie, grazie per il film che fai. mi metto a trovare Enzo Ferrar Enzo One Ferrari vieni qua, questa è la mia villa questa è la mia dimora e sono felice perché tutti parlano di soldi, miliardi mille, villette io sono questo, io sono quello alla fine non sono nessuno tutti messi la fortuna è la libertà la libertà è la prima cosa la libertà mentale, psicologica è la prima cosa e poi tutto il resto sono tutte sono cose superfle la gente corre, corre, corre ma dove va? dove va? dico io io sono quello io sono questo e poi dove vai? è stare con i piedi per terra ed essere felice poco, povero ma ricco dentro io ho la mia filosofia perché io sono stato ricco prima prima io ero ricco prima quando ero qui quando io ero sposato questa è mia moglie questa è mia moglie Svizzera e io vivevo 15 anni in Svizzera dove? in Basel mia moglie era brava ma è meglio qui? sì come aria quando è venuto Cernobyl la puzza Basilea mamma mia tutti malati e io sono fortunato che non sono stato ancora malato per Cernobyl quella chimica e la mia moglie era troppo brava mi dispiace che non posso parlare italiano no ma ti spiegherò ti spiegherò un po' 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 va bene ok ciao ciao alla prossima alla prossima ciao sono felicissimo della tua della tua presenza ciao della tua come si dice la parola esatta del tuo invito ok va bene va bene ciao ciao di nuovo